buon venerdì ragazzi eh mi raccomando per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis attivando la campanellina il nostro claim con il rispetto di tutti gli altri per tutti gli altri è no abbonamenti no donazioni quindi se volete fare una donazione o abbonamento no perché non si può fare ma se avete voglia di fare una donazione di sentirvi meglio primo canile primo gattile vicino a casa vostra andate lì e donate qualcosina oppure comprate del cibo per questi fantastici animalini gatti e cani eh i contenuti di questo canale compresa la live di ieri sera è stata molto apprezzata una live improvvisata alle ventitré circa i contenuti sono tutti gratis e sono accessibili a tutti non c'è nessuna barriera qualsiasi persona può guardare i nostri contenuti che poi possono piacere non possono piacere piacciono tanto piacciono poco i numeri dicono che i nostri contenuti sono molto ma molto apprezzati ci fa piacere quindi a voi la scelta spesso le cose gratis tipo l'iscrizione no si sottovalutano ma per noi è importante l'iscrizione perché ci date più voce qualche ora fa tornando proprio a quello che abbiamo detto alla live di ieri sera ovvero sia che non sarà un mercato acquisti da 30 40 è giusto ma è cambiato poco rispetto al cinese no non è cambiato poco perché ad oggi sei in sicurezza nella vera sicurezza finanziaria e sei credibile a livello finanziario cosa che prima non eravamo con Zhang cioè molti di voi si sono resi conto in che condizione lui voleva continuare ci avrebbe messo in pericolo mentre ad oggi la nostra situazione finanziaria è totalmente a posto sicura e dimostrabile come lo era anche con Zhang tra l'altro eh Globo e Sport e dice che Bento quando vi dicevo ragazzi l'Inter 40 milioni in portiere non lo paga e io non faccio mercato eh cioè io lancio delle impressioni non lancio le sentenze come fanno altri su YouTube che hanno conoscenze e fanno il calcio mercato Globo e Sport e dice Bento l'offerta dell'Inter era di 15 milioni ritenuta troppo bassa il procuratore di Bento cosa ha fatto in maniera molto signorile no Bento non è andato all'Inter perché i problemi non erano i soldi ma era scontato le stesse tra virgolette proteggendo l'Inter per eventuali affari in futuro ma il problema è che Bento costa io sono totalmente d'accordo con quello che ha fatto l'Inter perché Martinez è un portiere fortissimo no forte è fortissimo perché ha tantissimo margine di miglioramento e troverà Gianluca Spinelli che lo migliorerà lo migliorerà ancora di più i portieri brasiliani o prendi eh li prendi quasi da sconosciuti anche se poi sconosciuti scusate non lo erano parlo di Dida di Alison Alison della Roma lo stesso Giulio Cesar che va a Chievo a terra a gennaio in ciabatte e non li paghi nulla allora ci lavori sopra perché perché i portieri brasiliani cibo meteo lingua hanno tempo hanno bisogno di tempo per adattarsi e di media i portieri brasiliani hanno bisogno di due anni di tempo per adattarsi quindi inutile andare a spendere 40 milioni su Bento anche perché a differenza del brasiliano che sicuramente è un ottimo portiere e lo riconosco ma un punto a favore di Joseph Martinez che lui ha già dimostrato in Italia quello che vale mentre Bento ancora no poi se farà tutta la Copa America titolare il prezzo schizzerà alle stelle perché lo abbiamo detto tante volte il mercato sudamericano non è più come tre anni fa che vai sulla spiaggia e prendi un attaccante da cento milioni o una cassa di birra e tre noci di cocco è cambiato il mercato sudamericano io volevo ricordare ai tifosi della Juventus ma soprattutto ai tifosi della Fiorentina io siamo compaesani io vivo nella città di Firenze respiro no respiro la loro passione che hanno per il calcio perché Firenze è una città che vive per il calcio ragazzi è inutile mi rompete i coglioni avete un presidente che ha dichiarato testuali parole commisso io tifoso della Juve lo sono stato e lo sono ancora a redazione Juventus News ventiquattro mi dispiace per voi motivo per cui quel cialtrone lì che mette in mezzo addirittura i Falcone Borsellino per andare ad indagare sull'Inter cioè quello va rinchiuso quello va curato secondo me ma a parte quello lì che quello si commenta da solo ormai no quello si commenta da solo ma la Fiorentina si è sempre messa a 90 gradi con Bernadeschi Quadrado Chiesa Vlaovic e poi va a prendere Mois Kenne a 18 milioni va a prendere uno che in un anno ha fatto zero gol e che già a gennaio si poteva liberare a zero mi apisci che c'è qualcosa che non torna lo dico così a pelle senza sapere nulla quindi lascio a voi le valutazioni ragazzi Gudmundson è un calciatore fantastico che a me piace tanto e secondo me è proprio quello che serve all'Inter c'è questo problema di questo processo stamattina parlano addirittura di una clausola antiprocesso e sono d'accordo perché se qualora venisse giudicato colpevole we have a problem a big problem capisci io spero e penso il ragazzo non abbia fatto nulla perché quelle sono delle cose molto molto brutte molto molto brutte quindi però lì te ce l'ha in mano il giocatore lo vuole prendere tipo in stile frattesi prestito con obbligo Gudmundson a me mi fa a me fa impazzire troppo forte ragazzi perché può fare trequartista può fare l'attaccante esterno può fare la punta di raccordo può fare anche un il ruolo di Mkhitaryan ma lo potrebbe fare soprattutto per quanto concerne la fase offensiva la doppia fase Gudmundson non ce lo vedo tanto ma potrebbe fare il ruolo di Mkhitaryan con molta meno fase difensiva o qualcuno dietro che gli copre le spalle per esempio quindi vediamo cosa succede io concludo il video ricordandovi di iscrivervi al canale i contenuti sono tutti gratis abbiamo spiegato nella live di ieri che non sarà un mercato faraone o sarà un mercato stile zang secondo me ci sono tanti vantaggi perché oggi siamo veramente al sicuro in attesa di passare di mano secondo noi passeremo di mano ai sauditi e lo riconfermiamo abbiamo sempre detto ma io ho tantissima fiducia nella dirigenza in Marotta e in ausilio spesso l'ho criticato Marotta ma Marotta ad oggi ha un atteggiamento che a me piace perché secondo qualcuno con l'uscita di zanga Marotta avrebbe dato le dimissioni forse non avevi capito che Marotta non aspettava altro ciao Grazie mille Grazie mille Grazie mille